Marco Marocco, vice sindaco della città metropolitana di Torino, oggi si parla dei comuni e le città metropolitane hanno il ruolo di essere la casa dei comuni, l'ente che li assiste in tutte le loro esigenze, in molte loro esigenze. Partiamo dal presupposto che i comuni sono sostanzialmente il primo ente che il cittadino incontra, scopre e ha le sue prime rapporti. Il comune ha bisogno proprio di avere assistenza, assistenza che può essere data in diversi modi. In questi anni si è sviluppato una serie di reti e relazioni che sono l'Anci, l'Anci nazionale, l'Anci regionale e le città metropolitane, le province, le enti di Arevasta. Questo ruota tutto intorno all'assistenza ai comuni.